Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus con la daily di oggi con Yves vediamo se è una cosa fattibile oppure no Lucky Foot onesto vediamo se qua ho una monetina fortuna in più l'abbiamo presa quindi la possibilità che ci troppi un cuore blu o un cuore rosso c'è lei ha un danno infimo che può aumentare tantissimo con l'utilizzo del del rasoio perché il rasoio aumenta il danno al costo di un cuore e togliendole un cuore entra nello status di War of Babylon quindi doppio danno no, doppio aumento di danno per quella stanza e War of Babylon permane fin quando ha un cuore solo rosso ed è l'unico carattere che funziona quando ha solo il cuore rosso perché per gli altri War of Babylon vuol dire avere un mezzo cuore rosso si attiva esclusivamente con un mezzo cuore rosso diciamo questa è la panoramica del personaggio e degli oggetti del personaggio in più ha Dead Bird che le permette cazzo prendo danno sicuro se continuiamo così bomba bomba si quello lo prendiamo dopo facciamo saltare lui speriamo qualcosa di meglio ma va bene lo prendo dopo qua ci potrei entrare e quantomeno prendermi un po' di monete va bene ricordiamoci il cuore blu e vabbè più lontano dovrebbe essere qua la stanza segreta super segreta e invece no beh Duke of Flies un attimo tanto qua patti non ci interessano ci prendiamo tutto il danno che ci serve per velocizzare lo scontro non è un buon oggetto l'HP app però faremo due cose una andiamo a prendere il cuore blu due entreremo nella stanza nope entreremo qua nella speranza che ci sia un cuore blu che non c'è per esempio ma porca puttana ah The Angleman almeno io lo lasciamo fare allora non c'è stato niente interessante potrei far così facciamo anche così ok quanto meno una bomba è rientrata all'ovile e ci teniamo comunque 5 monete per spawnare un arcade mi sta bene il cuore blu l'ho preso troppo presto chiaramente giustamente così l'ho perso subito la stanza super segreta è probabilmente lì sotto ma a questo punto non ce ne frega niente già 3 minuti per primo piano mi sembra una rogna più che sufficiente e anche forse non era neanche serviva neanche e qui non ci posso entrare a momento vediamo che cosa possiamo fare qua questa mi conviene farla esattamente poi ci pensiamo se serve veramente ricordiamoci che razor blade attacca subito i cuori rossi e quindi non possiamo farlo adesso forse conveniva prendere quel cuore blu e scendere un po' a cazzo duro con i due canister vuoti e il mezzo cuore blu anche se eravamo a rischio morte veloce questo al momento non mi serve questo mi può aiutare a recuperare i cuori rossi se ci fosse una stanza di oggetti di tipo questo è interessante questo anche bene una stanza non troppo preoccupante se prendo danno qua mi incazzo anche perché c'è un corridore solo questi mancano ah no due corridori sinastiche questa non serve ah questa ce l'abbiamo gratuita perché siamo usciti da qua molto ottimo totalmente inutile va bene dieci bombe a gratis che ci fa sempre comodo potrebbe anche esserci una stanza segreta nope potrebbe essere qua no ma ci siamo presi la chiave stavo cercando di capire se c'era la possibilità che ci fosse un eh dai però ah gli ricresce pure la capoccia a questo molto bene tu muovi di fare il danno vero? no no perché l'ho visto proprio propenso alla cosa ok allora se io qua posso prendere eh ma che c'ho The Angleman se vuoi io prendo tutto e vaffanculo qua che andiamo a fa? siamo qua tutto il giorno? ok qui assolutamente no almeno dai facci godere niente boss oh cacca vieni qua per favore attaccala brava brava per favore no no in war of babylon in più che cazzo è successo che cazzo è successo non scala non scala neanche il danno di quell'uccello maledetto imbarazzante veramente range down va bene va bene va bene non credo che dureremo molto ma mi serve mi serve qualcosa che mi troppi fuori la butto lì cuori blu cuori blu cuori blu cuori blu una bomba per due bombe adesso è non concesso che si riescano a prendere con la bomba guadagnata ci guadagno due chiavi giusto ma parca traga che mi tocca pure farlo vabbè è una delle andate più facili ammazza che merda va bene questo mi sa che è quello che spara parecchie esatto tirzap grazie cielo grazie anche un tirzap di quelli belli potenti avrei preferito sedonian forse ma vabbè ma basta con sti robi finalmente è un attiva decente è importante farlo a stanze finite queste robe c'ho sei di fortuna fai tu cazzo ci muoio forse no forse non ci muoio attenzione beh la fortuna ma è tanta sa sti robi la sti robi la sti robi sti robi speed up oh shot speed up si me ne vado giù sai che te dico eh tu vede il brutto di Sherry 8 mio amico ok ok adesso monete ne abbiamo abbastanza qui un The Hanged Man poteva fare la differenza totalmente a caso probabilmente era un il down o qualcosa del genere aspetta un attimo no qua non ci può essere niente mi tocca entrare così cazzo Sucked si mi farò perdere tutte le rush Sucked andiamo va grazie Stanze Segrete di avermi tenuto in vita preferisco The Sherry 8 se lo trovo ma anche questo no aspetta un attimo non mi interessa pay to win pay to play pay to qualcosa questo è quello che non spara mai ma evoca e basta che è il migliore per me puoi anche morire perfetto assolutamente sì strength assolutamente sì tant'è che prendo tant'è che prendo quello gratis perché io faccio strength prendo questo e poi prendo questo e comincio a fullarmi a merda hai presente a merda? a merda perfetto rimaniamo fissi basta il tap intanto ci abbiamo Sucked xl perfetto proprio quello che volevo abbiamo preso anche un danno aggiuntivo ovviamente non ne usciremo mai più tutta sta roba ma va benissimo ci interessa comincieremo a lasciare robe perché per forza di cose che devo fare? salta proprio via questa ce la teniamo buona cercherò di finire stanze andando addosso alla gente perché siamo morto prima credo forse questo era il caso di farla in quel modo di stanze ecco due chiavi per aprire uno scrigno anche no per esempio vediamo qua che ci dici robetta robetta serve un filo di danno di più ah tutte e due perfetto e qua tu anche mamma mia dimmi che non lo voglio cazzo quelle sono le nuove cose non mi chiedete che cazzo servono book of secret fammi vedere tutta la mappa merda l'altra parte del livello diciamo addio al boss rush eh tanto non ce la faccio comunque a far due boss eh speravo di fan tempo in realtà ma vabbè quindi subito perfetto intanto ci devo ritornare qua prenderemo una quantità di danni spropositata però a dietro a tutta io almeno ci arrivo dai un pochignino di danno di più ci metterò una vita a fasti livelli ma vabbè tu sei quello di ira mamma mia quanto l'ho vista brutta tu mi dovresti lasciare una giusto? no non so che cos'è quindi lo prendo party time sono stronzo? forse si forse si non so quanto danno fa le bombe non sono più un problema e andiamo dal boss non so Poi dici perché ti stai a porta dietro Danged man Bella domanda Cazzo me so C'è una cesta che è Sempre quella E cambiano Ce la facciamo a colpirti Merda Tu sti che sei bro Ce la facciamo? E' il tempismo che bombe ne è facilissimo Per un cazzo proprio Eh vabbè E' la facciamo a colpire E' la facciamo a colpire Ma porco No Ok non c'è Senti Interessantissimo Interessantissimo Ok 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 ci facci vedere ci facci facciamo così improbabile io non mi vedo agile per niente allora pinna non lo so fai tu ma guarda che danno di merda no non lo capirò mai questo è veramente danno cb back utile grazie ai sei di fortuna utilissimi grazie a tutti Grazie a tutti. Merda, non mi vedo agile. Grazie. Bella quella, mi piace. No? Qua che ci dici? No, aspetta un attimo. Ok. Ok. Mamma mia. Sto dando un gigante. Aspetta un attimo. Eh, non so che fa. Non mi ricordo proprio. Che cosa ho fatto? Ho attivato per sbaglio... Forse sì. Noi non daremo per ora. No. 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 no è l'antitesi della cosa utile un po' di tutto ma che cazzo prendo dei lovers pure io ma si mi ha detto tutta la vita beh perfetto oh ok Sì, molto interessante Vabbè, è chiaro che Già intanto se la finiamo Sta run Giù? Come hai detto Non mi spieghi perché Ho caccato una cacca arcobaleno Che io non ho del tutto capito Quindi Caccio e roo Ma che musica è? Quanto è che non ascoltavo la musica della cattedrale? Merda Le grandi cascate Doppia chiave d'oro Lirissimo Per carità Non so neanche come li ho evitati proprio Ma proprio non ne ho idea La cattedrale è Quindi qua non ci interessa Perfetto Va benissimo Quanti danni fate? Abbastanza? Quanti danni fate? No ma Portiamolo a termine Prima di farmi danni stupidi Ah questo si Questo lo uso Perfetto Poi Facciamo così Questo si Facciamo pertro Questo si E questo si E poi usiamo Amper Perfetto Perfetto Cazzo così Si fa un anno damage Ma che palle Poi magari prendi danno Non trovo Sti minchioni No C'è che ci sta Pura Però No 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 Alla prossima. Alla prossima. Vabbè, va benissimo. Quindi ho assorbito quella roba. Ok. Merda, chi c'è? Una quantità di pini imbarazzanti? Verosimilmente sì. Alla prossima. Vabbè, senti, mi sono rotto le scatole. Allora, possiamo farlo anche senza, eh? Andiamo a finirla, sta run, che non so quanti cuori ho. Prima che me la rischio di brutto. Ho preso pure un oggetto in più, ma sti cazzo. Milleventesimo. Potevo finire probabilmente molto meglio. Va bene, ragazzi. Questo è quanto. Ho cercato di tirare corta la run, altrimenti non ne uscivamo più. Anche perché me l'ero stufato anche io, però volevo vedere... No, challenge. Volevo vedere gli altri che avevano fatto, quantomeno. Va bene. Questo è quanto. Ci si becca alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi.